Musica Si è tenuta sabato mattina presso la sala concerti delle comune di Catanzaro, l'assemblea annuale della sezione provinciale di Catanzaro dell'Unione Italiana Cechi di Povedenti per la presentazione ed approvazione della relazione morale bilancio consuntivo anno 2014 ed è la relazione programmatica e bilancio preventivo anno 2016. Nel corso dell'assemblea si sono tenute le elezioni per la nomina presidente a consiglieri a fronte della scadenza del mandato che si rinnova ogni cinque anni. È stato eletto il nuovo consiglio costituito da sette componenti molto giovani. Il nuovo consiglio che si insedirà martedì avrebbe già espresso la volontà di rileggere alla guida dell'Unione la presidente uscente Luciana Loprete, ricandidatasi per dare nuova linfa all'Unione. La presidente, sempre animata da un carattere forte, energico e battagliero, ha sicuramente portato nel corso della sua carica ad importanti conquiste per i disabili visivi. Resta però ancora molto da fare, vi sono ancora obiettivi importanti che per essere raggiunti necessitano di un costante impegno da parte delle autorità locali, auspicando una proficua e costruttiva collaborazione futura. È stato un anno difficile, un anno che comunque è ricco di attività. Io veramente ringrazio Dio per quello che siamo riusciti a fare e mi sono resa conto che c'è ancora tanto da fare e responsabilmente oggi c'è anche il rinnovo delle cariche del direttivo associativo, mi sono ricandidata, sempre per rispettare quel senso di responsabilità e quel senso civico e quel senso di appartenenza alla nostra grande organizzazione. Se lei pensa che siamo nel 95esimo anno di vita della nostra associazione e che dal 1920 è stata fondata e se pensa a tutte le date, le leggi, gli episodi che l'hanno vista e coinvolta in questi 95 anni non possiamo che avere veramente riconoscenza di un'unica associazione che ha avuto salvaguardia dei diritti morali e materiali dei ciechi. Ma soprattutto attraverso queste leggi riconosciute, questi diritti, attraverso tutto ciò che sono riusciti ad ottenere loro prima di noi e noi dobbiamo mantenere e continuare, è proprio quella qualità della vita di ogni cieco e ipovedente. Allora, è un'assemblea provinciale, questa è una delle prime perché se ne svolgeranno altre nelle cinque province per fare il consuntivo sull'anno ma anche per il rinnovo delle cariche perché finisce il mandato quinquennale e quindi si rinnoveranno le cariche direttive del Consiglio Provinciale e i delegati agli altri livelli dell'associazione. È una sintesi del lavoro fatto ma anche un rinnovamento della volontà di continuare su questo percorso perché l'associazione rappresenta per tutti i dirigenti ma soprattutto per gli associati uno strumento per continuare ad avere garantiti determinati diritti che non sono scontati, l'autonomia, le istruzioni, il lavoro sono elementi difficili da rintracciare nella vita quotidiana di un cieco perché nonostante siamo in un'epoca moderna dove formalmente questi diritti sono sanciti il percorso quotidiano invece è una giungla dove bisogna lottare per confermare il valore della persona umana quindi è vero che siamo messi in una condizione di pari opportunità però noi ci stiamo rendendo conto nel lavoro che facciamo tutti i giorni rispetto a quelli che sono i reali bisogni che c'è tanta tanta difficoltà. Grazie